Oroscopo del giorno. Giovedì 28 marzo 2024. Ariete. Amore. Buona giornata per voi e per l'amore visto che Venere sarà in posizione favorevole e riuscirà a regalarvi delle belle emozioni. A voi non resterà che godervi il giovedì, anche con una nuova conoscenza se siete single. Lavoro. Mercurio in congiunzione potrebbe portare qualcosa in più anche sul posto di lavoro. In bocca al lupo. Toro. Amore. Miglioramenti previsti durante quest'ultimo giovedì del mese per le coppie e soprattutto per chi ha avuto problemi nella relazione. Potrete ricominciare a vedere il bicchiere mezzo pieno. Lavoro. Giove sarà in congiunzione ed in ufficio la sua posizione potrebbe darvi dei vantaggi non indifferenti. Gemelli. Amore. Una nuova giornata del mese difficile e di tensioni nel rapporto con il proprio partner. Anche per oggi sono previste delle difficoltà e dei momenti no. Non andrà meglio nemmeno per i single. Lavoro. Le energie odierne saranno particolarmente basse, dovrete fare molta attenzione. Cancro. Amore. I sentimenti non mancheranno durante questa giornata e potrete godervi il bel momento insieme alla vostra dolce metà. Non si possono escludere delle novità pure per chi è ancora single. Lavoro. Attenzione all'opposizione di Mercurio, nonostante una posizione abbastanza buona di Giove. Leone. amore. Tutto ok durante il nuovo ed ultimo giovedì del mese in corso. Non sarà una giornata affatto male per voi e per la persona che avete al vostro fianco. Cercate di godervi ogni emozione possibile. Lavoro. Mercurio sarà favorevole ed anche le energie non saranno niente male. Potrete dare molto in ufficio. Vergine. Amore. Purtroppo anche oggi dovrete combattere l'opposizione di venere che non vi sosterrà affatto nella relazione sentimentale con il partner. Nemmeno per i cuori liberi sarà un giorno troppo entusiasmante. Lavoro. Energie in calo. La posizione di Marte sarà contraria. Bilancia. Amore. Quest'ultimo giovedì di marzo non sarà dei migliori. Non attendetevi grandi cose in amore perché venere non sarà in aspetto troppo buono. Un po' di attenzione servirà. Lavoro. Possibili inconvenienti sul posto di lavoro per via della posizione opposta di mercurio. Scorpione. Amore. La giornata di fine mese sarà di recuperi e miglioramenti in amore specialmente per chi ha avuto dei problemi di coppia. Potrete quindi sperare in qualcosa in più con la persona che avete accanto. Lavoro. Molto bene pure per il lavoro visto che potrete contare su delle ottime energie. Sagittario. Amore. La posizione di venere non sarà per niente buona per oggi. Con la vostra dolce metà si svolgeranno discussioni e complicazioni. Anche i single che si stanno approcciando a qualcuno potrebbero avere un momento no. Lavoro. Un giovedì di fine marzo con qualche opportunità professionale in più. Capricorno. Amore. Il pianeta dell'amore per quest'oggi non vi deluderà in quanto la posizione di venere sarà buona e porterà belle emozioni. I single potrebbero fare delle conoscenze nuove ed interessanti. Lavoro. Occhi aperti al rapporto con i collaboratori potrebbero esserci alcune tensioni in ufficio. Acquario. Amore. Una venere in congiunzione vi permetterà di godervi tranquillamente questa giornata. E così potrete fare anche se avete ancora il cuore libero da impegni sentimentali. Lavoro. Mercurio sarà favorevole, potrebbero spuntare delle buone nuove. Pesci. Amore. Questo sarà un giovedì di fine mese veramente molto buono e ricco di emozioni per coppie e single. Potreste vivere dei momenti a due molto gratificanti. Lavoro. Mercurio, Saturno e Marte saranno dalla vostra parte. Delle belle notizie sono attese pure per il vostro lavoro. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie.